Finisce 6-0 il primo incontro di campionato di Serie D tra United Aprilia e Sporting Giovani Risorse. Nel primo tempo succede pochino mentre nella ripresa la gara si sveglia ed è lo United Aprilia a trovare il gol del vantaggio dopo pochissimi secondi grazie al sinistro di Alessio Crepaldi. Lo Sporting Giovani Risorse prova a rispondere al fuoco nemico ma la squadra Maglia Bianca perde un brutto pallone a metà campo lo recupera lo United Aprilia che trova una sfortunata autorete da parte di Cristian Pardo. Sulle ali dell'entusiasmo lo United Aprilia preme forte sull'acceleratore e trova il 3-0 sempre con Crepaldi autore di una doppietta. A realizzare il quarto gol ci pensa invece Mirko Pompili con questo bel destro dal limite dell'area. Il 5-0 arriva nel finale ad opera di Cianfanelli sotto porta. Non sbaglio è sempre Cianfanelli nel finale metà segno al gol del definitivo 6-0.